Grazie Presidente, mi associo ovviamente a quanto già illustrato dai colleghi, non vado a ripetermi, ma voglio sottolineare come già fatto stamane in Commissione che nonostante tutto gli sforzi dell'amministrazione nel fare, nel cercare di fare bene, devono sempre e comunque tenere nella dovuta considerazione gli aspetti umani, i cittadini. E' importante, è fondamentale non solo ciò che si fa ma anche come lo si fa. Quindi questa mozione che ovviamente ha la volontà di rimarcare questa necessità arriva dopo una Commissione nella quale abbiamo già esplorato, la Commissione si è già espressa e avrà già probabilmente inviato la comunicazione agli uffici nella quale appunto si rimarca questa iniziativa. Pertanto io auspico che con questa mozione si possa non solo dare un indirizzo agli uffici ma si possa anche sensibilizzare gli uffici nel prendersi cura dei cittadini. Grazie.